Ci prova oggi Bitcoin a fare un po' di pump, ci prova oggi Bitcoin a darci una candela verde, ma in realtà semplicemente sta seguendo quello che fa Nasdaq 100 per l'ennesima volta perché questa correlazione momentanea dei mercati crypto con i mercati old, soprattutto quelli tecnologici, sta continuando ancora adesso. A dire la verità Bitcoin è leggermente più deboluccio anche del Nasdaq che ha rimbalzato vigorosamente dalla scorsa settimana incluso di venerdì e poi oggi sta iniziando un po' diciamo meglio rispetto alle crypto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, visto che oggi è una giornata super verde, ci portiamo davanti questo grande Bitcoin d'oro e poi volevo ringraziare tutti quanti voi per i commenti che mi avete lasciato per quanto riguarda l'ultima live che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato anche della questione DeFi e dove vi ho spiegato il mio punto di vista sull'importanza di queste questioni che avvengono anche in DeFi, cioè il caso Wonderland, ma è un caso diciamo su tanti che probabilmente ne usciranno anche nei prossimi mesi e di come sia importante per l'evoluzione proprio del settore anche stare in queste situazioni. Quindi grazie a tutti per i super messaggi che mi avete lasciato, i grandi complimenti a chi di voi apprezza questa visione macro un po' del mondo crypto, un po' super partes e ovviamente un po' diciamo high level. Va bene ragazzi, allora ho i grafici qui dietro e soprattutto poi volevo farvi vedere, anzi facevo così, prima dell'analisi ciclica, prima di vedere tutti i grafici che stiamo guardando dall'ultimo mese, vi faccio vedere la mia posizione che questa mattina ho aperto l'OM su Bitcoin di trading però ragazzi, quindi probabilmente in close, entro brevissimo. Ok, ok, allora ragazzi eccola qui e la posizione l'ho aperta questa mattina, l'ho indicata ovviamente in Academy ed è stata aperta per un trading leggero che secondo me poteva fare, cioè questo pump che poi Bitcoin in effetti sta facendo e che analizzeremo anche oggi. Ho utilizzato l'exchange Delta Exchange, ragazzi è un exchange piccolino, ho fatto anche la review di questo exchange ma lo uso perché mi trovo strabene per via del fatto che il funding è veramente molto basso. È crypto to crypto quindi può essere utilizzato non a mo' di mercato spot ragazzi ve lo ricordo, questo tipo di exchange è per trader e soprattutto chi vuole utilizzare i futures, vuole fare anche lo short selling, allora questi tipi di exchange sono il top perché hanno veramente tantissime strumentazioni, tantissimi strumenti che vi rendono utili questo tipo di operatività, vi lascio sempre il link in descrizione, mi date come sempre una mano con i ref, io ragazzi vi parlo e vi porto solo quello che provo, testo e mi piace, e in questo caso Delta mi sta piacendo, lo sto usando veramente già da un po' di tempo. La mia operazione su BTC è stata aperta questa mattina su time frame orario intorno a questa zona, in realtà sono state immediate perché la prima è stata aperta più in basso e poi in breakout un'altra seconda posizione, però ragazzi tutto il gioco si fa in base a questo livello, quantomeno nel trading di breve periodo per Bitcoin che vedete essere un livello di resistenza ormai abbastanza visibile, ve lo faccio vedere già per darvi subito un'informazione strautile per chi di voi sta seguendo questo pump, 38,9 quindi 39 mila dollari ragazzi è la resistenza di BTC, quindi questo pump va bene per chi come me in questo momento ha fatto trading, si prende un bel profitto, ovviamente è leva finanziaria, qui siamo a 270% di profitto, però è leva ragazzi, vi ricordo che in realtà non è un profitto del genere, è solo perché è la leva che viene indicato così, ma se non supera i 39 di lunghezza di questo movimento non ce n'è. Va bene, tralasciando l'operazione di breve che ho fatto oggi con l'academy di trading coin, vi faccio vedere invece l'analisi ciclica di Bitcoin, andiamo a vedere Nasdaq che sta facendo, e vediamo pure se questo movimento può essere duraturo o no, perché un po' il dubbio io ce lo avrei. Bene, iniziamo subito dall'analisi ciclica di Bitcoin, abbiamo fatto un po' un accenno nella live di venerdì, ma la riguardiamo oggi. Allora ragazzi, due view differenti completamente, cioè non completamente, diciamo un po' differenti. Allora, la prima view ragazzi è quella legata al fatto che siamo in un mensile ribassista, questo mensile dovrebbe essere iniziato teoricamente il 10 di gennaio, e quindi saremo a 14 giorni, questa fase di pump è il secondo settimanale, dovremmo andare verso la prima decade di febbraio per concludere questo movimento. Questa è la view principale, quella che stiamo seguendo, ma c'è anche una seconda view, quella del mensile che è stato più lungo iniziato lo scorso dicembre, ed è arrivata addirittura a chiudere verso il gennaio, vi faccio vedere quest'altra view. Quindi questa è la view del mensile, ancora da chiudere ragazzi, quella teoricamente più probabile che fa questa cosa qui. Come vedete, quest'area di resistenza che vi ho indicato sul mio canale Twitter, già da venerdì sta tenendo sotto scacco Bitcoin e l'intero mercato. Adesso vediamo ragazzi in questo video anche alcune cripto, le mie green, green, cripto green, cioè quelle che hanno uno segnalibro green, perché mi piacciono più di tutti, le vediamo, ve le faccio vedere, perché sono veramente tante, tra cui anche l'una che è rimbalzata alla perfezione su quello che era la nostra area di supporto che vi ho indicato invece nel canale Telegram. Ragazzi, Twitter e Telegram sono stra-utili in questo momento, vi lascio il link in descrizione gratuito, ovviamente vi potete registrare. Allora, questa zona qui ragazzi resta la più probabile di conferma relativa a questa situazione, l'avremo dentro pochissimo tempo, in particolar modo, se Bitcoin non riesce a superare questa zona di resistenza, quindi la zona 39, ma poi in seconda fase c'è questa media mobile, quindi quest'area di media mobile, tutta quest'area che vi ho indicato, siamo ancora molto probabilmente all'interno di questa view con il mensile ciclico ribassista, mentre oggi ci ha dato un livello di supporto che è molto importante da andare a vedere, 36.400. Se dovesse già domani dopo domani ritornare indietro e breccare questo livello, probabilmente andrà a chiudere tutta questa fase con un nuovo minimo, un doppio minimo vicino a quest'area precedente, quella fatta intorno al 24 di gennaio. Non posso immaginare però in una situazione del genere, secondo me, anche le altcoin mollerebbero la presa. Qual è invece la view di natura rialzista, quindi che indica che in questo caso è già iniziato un nuovo mensile completamente a parte, quindi può fare un po' quel che vuole, ragazzi, perché potrebbe essere anche il primo mensile del ciclo semestrale che stiamo attendendo. Allora, questa è la view, quindi dall'inizio del mensile del 17 di dicembre se ha allungato a 38 giorni. Questa cosa è assolutamente possibile perché vi faccio vedere anche i cicli precedenti, ci sono cicli un po' vicino ai 36, anche ai 40 ci possono stare su Bitcoin. L'unica cosa che un po' non mi convince tanto di un ciclo del genere, ragazzi, è il fatto che essendo un ciclo molto ribassista, vedete il down, che ha fatto andare ad avere un ciclo lungo, così, con un meno 35 dalla parte alta alla parte di minimo, è un po' difficile, cioè ha una sequenza storica estremamente rara, diciamo così, quindi è tutto possibile, ovviamente sapete che è impossibile sapere il futuro, ho fatto un gioco di parole, però un po' nel calcolo delle serie storiche una cosa del genere è un po' ambigua, no? un po', insomma, non avviene tanto tanto spesso, se non che noi seguendo sempre il trend, ovviamente siamo a cavallo di questo trend, anche se io vi sto dicendo che secondo me ha un po' i giorni contati, però io il long l'ho fatto lo stesso, ragazzi, perché? Perché il trader e l'investitore corretto non segue una previsione come un oracolo, ragazzi, ma deve gestire la posizione di trading utilizzando le strategie di trading per gestire più ipotesi contemporaneamente, ovvio è, ragazzi, che se mi inverte il trend io esco scappando proprio perché conosco questa previsione che vi sto dicendo, quindi il gioco è sempre lo stesso, quindi queste sono le due view su Bitcoin, stra-importante questa fascia, la continuo a pubblicare, anche stamattina l'ho ripubblicata su Twitter, e la continuerò a pubblicare anche nei prossimi giorni, perché è veramente una fascia importantissima, tra le altre cose, questo rialzo è vero che c'è stato su Bitcoin, ragazzi, però è anche vero che è driven dal Nasdaq, quindi la questione è non cammina con le sue gambette, quindi questo significa, ragazzi, che basta veramente un non nulla, basta un crash di Nasdaq, basta un rientro su determinati valori a livello settimanale e Bitcoin invertirà inesorabilmente e magari torna a scendere, questo è veramente un po' il, diciamo, leitmotiv di questo video, ragazzi, un po' teoricamente, qualcuno di voi potrebbe dire, questo livello su Bitcoin è un ingresso short selling, non in realtà un ingresso log, ci può stare, io per mia, diciamo, filosofia personale, non vado short sulle crypto, ragazzi, alcune volte sto facendo da un po' delle operazioni, utilizzando, appunto, come vi ho detto, Delta Exchange ed FTX e PrimeXBT, ma Prime solo per Bitcoin, mentre queste altre due exchange li utilizzo anche per le altcoin, però, ragazzi, sono operazioni di trading, non mi piace far short sulle crypto, per una questione di filosofia monale mia personale, però mi rendo conto che, da un punto di vista di trading, è uno short questo ingresso qui, perché, ragazzi, vi faccio capire anche questa cosa, perché il livello sul Nasdaq è un tentativo di rimbalzo e di entrare all'interno di questa candelona rossa che ha fatto meno 7,50% nella settimana del 18 di gennaio, una candela del genere, ragazzi, non può essere recuperata da una sola settimana, o almeno è decisamente molto raro una cosa del genere, è molto più probabile che ci sia il cosiddetto rimbalzino del gatto morto che arriva più o meno dove sta andando Nasdaq, intorno ai 15.000 come punti di Nasdaq, per poi tentare nuovamente la strada del ribasso, poi lì si gioca la partita, ragazzi, ok? Questo è il discorso, quindi magari potrebbe anche spingersi qui, già è molto alto questo livello, dico francamente, ragazzi, secondo me è già un livello del genere più che sufficiente, intorno ai 14.900, 14.800, poi da lì, ragazzi, se continua a salire nella settimana e recupera al di sopra dei 15.000, quindi si riporta sopra tutta questa fascia, anzi, mi la metto proprio intera, tutta questa fascia, se riesce a recuperarla in questa settimana e si riporta sopra, dà un grandissimo segnale di forza, però fino a quando è dentro quei limiti è il rimbalzo del gatto morto, perciò capite bene come sono pericolosi i prossimi giorni e questa settimana proprio in questione, ragazzi, quindi mi raccomando state fortemente attenti a queste cose, vi faccio vedere anche Ethereum che conferma perfettamente un po' la delicatezza di questo periodo. Ora, ragazzi, come vi ho detto prima, io sono long in questo momento su Bitcoin per un'operazione di breve, ma la paura un po' ce l'ho, perché i segnali di analisi tecnica non sono positivi, come vi sto dicendo. Mancherebbe ancora l'ultimo a fondo, probabilmente nelle prime decade di febbraio, però se il mercato volesse anticipare una run-up e una fase di inversione, io ci provo e sto dentro, proprio perché non si sa mai, ragazzi, è possibile anche che queste analisi siano un po', diciamo, lasciano il tempo che trovano e quindi ci sto sopra. Però, ragazzi, vedete anche ETH in sostanza rimbalzato sul supporto nella parte bassa, che poi ha toccato addirittura in shadow, vedete, questa zona qui, ma il supporto vero è ed è resta in close della settimana, 2400 dollari, mentre addirittura ETH, peggio di Bitcoin, non riesce ancora a superare questa, no, peggio, uguale a Bitcoin, scusate, non riesce ancora a superare questa fase. Vedete come è molto simile a Nasdaq l'atteggiamento dei mercati cripto? Vi faccio vedere questo grafico, praticamente sembra lo stesso di ETH in questo momento, ma è quello di Nasdaq 30, 100, vi faccio vedere la questione, quindi super candelone, vedete, la hammer di inversione settimanale e poi siamo qui. Solo un break di questi livelli di massimo potrebbero spingere ad un rimbalzo fino a 2008 circa, 2900 dollari anche per quanto riguarda Ethereum, ma ancora lì, in ogni caso, ragazzi, la partita non è vinta, perché siamo come in aria 15.000 per Nasdaq, cioè è il rimbalzo naturale di questa settimana, ma nulla cambierebbe nella visione complessiva, o almeno quello che ci dicono i grafici. Quindi c'è spazio per salire, ma purtroppo, visto i ribassi delle scorse settimane, questo non cambierebbe nulla in termini di trend, nemmeno per i prossimi giorni, dovremmo poi aspettare. Certo è, ragazzi, che un'inversione su quei livelli di Nasdaq e anche Bitcoin ed ETH che probabilmente continueranno a seguirlo, sarebbe estremamente positiva e comunque ci ripara, ragazzi, anche un eventuale crash, poi è meglio che parta da un presso più alto, no? Insomma, questo è ovvio che sia così. Andiamo a vedere invece le DeFi, perché le DeFi hanno subito pesantemente la questione Wonderland, Prognation e tutto quello che è stato il clima di tensione, il PEG USDT, il PEG di altre stablecoin ha tenuto, ragazzi, io ci tengo a dirlo, in momenti di forte volatilità, con Bitcoin che scende, un barra fallimento scam, che non so che non si capisce ancora bene che cosa sia, relativa alla Prognation, comunque ha tenuto anche il PEG meme. questa cosa viene sempre sottovalutata, ok, c'è pericolo, ok, c'è la questione legata al fatto che siano cripto un po' particolari, queste qui, USDT è una specie di algoritmica, meme non del tutto, però la questione è che intanto hanno tenuto il PEG in un momento veramente difficile e questo è un pro, poi bisognerà vedere, perché se questo momento difficile probabilmente continuerà nei prossimi settimane, la questione si mette veramente malissimo, intanto l'una rimbalza e con l'una si porta dietro ovviamente anche questo grafico che è quello della Total Market Cap della DeFi, il grafico più importante in questo caso, come vedete decisamente più debole la Total Market Cap della DeFi rispetto ad Ethereum e a Bitcoin, come abbiamo visto, in questo caso è avvenuto il breakout dei 120-118 billion di capitalizzazione, quindi qui è avvenuto l'inversione da un punto di vista proprio di conferma sul grafico settimanale, quindi assolutamente invertito il trend della DeFi e delle Crypto DeFi nel medio periodo, vedete ragazzi, quindi swing a rialzo che non riesce a rompere il massimo precedente, swing ribassista con lower low che rompe il precedente minimo, quindi o qui finisce la fase di correzione e inizia un nuovo trend, oppure questo grafico ci indica che è appena iniziato il trend short delle Crypto DeFi, questo va tenuto sotto controllo, quindi o finisce qui questo trend, e si vede come un trend correttivo di quello che abbiamo visto finora, oppure questo è la prima parte di un trend ribassista, e visto dove siamo arrivati, visto che veniamo da un super bull run, dobbiamo stare molto attenti, secondo me in questa fase ragazzi, quindi fate particolare attenzione ai prossimi mesi, perché anche un eventuale rimbalzo, per esempio di questo indice, chiamiamolo così, quindi di questo strumento in questa zona, con le due medie che scenderanno ovviamente, e si posizioneranno così, a quel punto potrebbe innescare la famosa fase ribassista, intanto è bene che prendano fiato ragazzi, però la situazione è veramente complessa, perché l'indicatore, il grafico in questione ha indicato che siamo in una fase correttiva, che poi dovrebbe teoricamente finire verso luglio-settembre, quindi c'è spazio anche temporale per scendere, questo potrebbe essere stato il massimo relativo storico della Total Market Cap della DeFi, da battere poi per i prossimi anni, barra mesi direi così, direi più mesi che anni, ok? Vediamo se magari ce la fanno, insomma tutto è racchiuso in questi grafici ragazzi, quindi vedete la particolarità di questo momento, esporsi poco sul mercato, non accumulate posizioni a leva, eliminate la volatilità, rischiate il meno possibile, questi quattro consigli che vi dio per gestire al top questa fase, da trader professionisti, da investitori professionisti, per non farvi prendere né da FOD, né da FAD, né da FOMO, né da tutte le varie ambaradam, andiamo a vedere adesso le green crypto, quelle che mi piacciono veramente tanto, tra cui la prima è l'una, proprio l'una ragazzi, perché ha iniziato un tentativo di limbalzo in questa fase, poi ci sono solo la Navaxmatic, Atom, CRO, Phantom, CRV, che è curve, e poi questa che è l'ultima entrata, ed è l'upring ragazzi, perché mi piace veramente tanto, per una questione ciclica. Ok, allora oggi guardiamo ovviamente l'una principalmente, e anche perché il video viene troppo lungo ragazzi, quindi non asciamo a vederle tutte, però tenetele a mente anche quelle altre crypto, sono un fiore all'occhiello, secondo me per una fase eventuale di limbalzo, quindi se Bitcoin dovesse invertire, quelle sono le mie crypto da cavallo di battaglia. Ok, andiamo a vedere la questione l'una, siamo alle prese con la chiusura di questo terzo movimento del ciclo annuale di luna, che è iniziato prima degli altri, cioè a maggio, ed ha una struttura ciclica ternaria, quindi uno, due e tre. Manca l'ultimo terzo movimento di questo ciclo annuale per luna, mentre le altre crypto stanno chiudendo il semestrale, luna è arrivata alla perfezione, dove vi ho indicato la settimana scorsa, cioè nell'area in questione, ho fatto anche l'analisi pubblicata sul canale Telegram, dove vi dicevo che cosa avrei fatto io, ho atteso questa fase eventuale prima di fare un long, tutto è andato per fortuna come da programma, ci fa un bel 11% oggi, è finito il trend a ribasso, ancora è presto un po' per dirlo ragazzi, primo perché il livello di 55, 53, 55, quest'area ora diventa un livello di resistenza, siamo troppo lontani dalle medie mobili, che come vedete hanno invertito, a livello temporale il mensile di luna è un po' troppo breve, però in questo caso ragazzi, essendo che ha, e sono 23 giorni vedete, da lo scorso 8 di gennaio, però è anche vero ragazzi, che qui abbiamo una struttura un po' diversa, perché luna fa cicli un po' da 70, qualcuno di voi se lo ricorda, quando io vi ho detto i cicli da 70 e le cripto, ormai 3-4 mesi fa, se lo ricordo quando ho fatto quel video, potrebbe essere appunto arrivato al suo livello, quindi potrebbe in effetti invertire, io un buy the dip si può fare, diciamo si poteva fare in questo livello, questa zona qui, che di voi magari ha tentato, e si è ricordato insomma della mia analisi, ha visto la mia analisi sul canale Telegram, io attendo sempre però un breakout in questo caso, perché non mi piace comprare degli strumenti, che scendono così verticalmente, lo so, o poi non si prendono mai dei prezzi molto basi, infatti qui vedete ha toccato 43, quindi era un bel buy, però ragazzi, io rischio sempre il meno possibile, ormai lo sapete, e avete visto anche che è successo, sulla questione Wonderland, per questo io non ho mai investito su Wonderland, proprio per la mia tipologia, di modus operandi, quindi perdo magari alcuni trend, magari molto buoni, però rischio veramente molto di meno, e a me piace fare così, quindi l'una ha questi scogli ragazzi davanti, e in primis 53, 55, questa è l'aria, solo se BTC romperà i suoi livelli, che vi ho detto, cioè quelli a, che è successo qui, ok ragazzi scusate, si era aperta l'altra schermata di TradingView, solo se BTC riuscirà a superare i livelli di 39, Nasdaq continuerà a pompare, probabilmente l'una lo vedremo in app, altrimenti questo è solo un altro, Death Cat Bounce, cioè rimbalzo del gatto morto, allora fase super delicata, ma anche super bella ragazzi, perché se avete formazione, se avete strategie, vi fate un po', giocate un po' ragazzi, e vi divertite veramente tanto, su un mercato del genere, perché si sta complicando la questione, io questa cosa me l'aspettavo, perché i pasti gratis, non esistono a vita, nei settori che riguardano l'investing, e nel settore cripto, lo scorso anno è stato un pasto gratis, praticamente generalizzato su alcune criptovalute, alcuni mercati, come gli NFT, i metaversi, i gaming, il DeFi, adesso questo passo gratis, inizia a diventare costo set, e piano piano si pagherà un bel biglietto, quindi strategia e formazione, vi salvano il BIP, come io ho detto già in un tweet, dica questa rima, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.